Pagare il parcheggio sulle strisce blu con la app, ora si può fare ed è una soluzione comoda che semplifica la vita degli automobilisti. Quante volte infatti dopo il parcheggio in un'area a sosta regolamentata ci si lancia nell'affannosa ricerca del parcometro, non sempre a portata di mano per stampare il tagliando? Non solo, quante volte capita di non avere gli spiccioli necessari per pagare la sosta? E ancora, una volta parcheggiato può capitare di esaurire il tempo di sosta pagato e di dover effettuare un nuovo pagamento e stampare un nuovo biglietto. operazione che ci costringe a tornare in fretta e furia alla macchina. Per evitare tutto questo, inclusa l'ansia di essere multati per avere sfrato il tempo massimo, è possibile utilizzare la nuova app sul cellulare per pagare la sosta. Finalmente abbiamo raggiunto un livello molto importante per la nostra città, una viareggio più smart, avremo la possibilità attraverso i nostri cellulari di poter pagare i parcheggi, di pagarli in tempo reale, non solo i nostri di parcheggi ma anche se viene un ospite e ci viene a trovare possiamo con il nostro cellulare pagare in tempo reale e quindi allineare anche viareggio come in tutte le città europee a un pagamento delle soste più smart appunto come dicevo. Da sabato 21 a martedì 24 dicembre dalle 8 alle 20 gli stalli blu delle strade intorno a piazza Cavour, piazza del mercato, saranno completamente gratuiti. Mover provvederà a segnalare la gratuità del parcheggio con appositi cartelli e coperture dei parcometri.